dai creatori di non aprite quella porta dell'armadio e avengers la rivincita dei gatti di polvere e a un metro da te disse lo swiffer ecco l'ultima vincente sfida lanciata dall'oratorio lì dove sei a casa andate in camera vostra se riuscite a passare nella confusione raggiungete il luogo dove tutto è incominciato ovvero quel cassetto del comodino dell'armadio in cui qualche anno fa avete messo quel pezzo di panino che tanto lo mangio dopo e ora guardandolo non capite se c'era già quella volta tutta quella verdura oppure quel cassetto in cui avete messo quel fiore che quando avrò coraggio glielo regalerò ed ora il coraggio dovete avere solo per toccarlo quell'angolo dell'armadio in cui ma sì dai i calzini di oggi non erano così malmessi li rimetto domani e ora altro che mascherina a mucchina beh andate lì prendete coraggio scattate una foto al disastro e poi armatevi di buona volontà riportate tutto agli antichi splendori buttate via quella schifezza che tanto non la userete mai e poi rifate la foto a miracolo avvenuto aspettiamo tante vostre foto racconti e anche dichiarazioni su eventuali ritrovamenti alieni aspettiamo tante vostre foto racconti e anche dichiarazioni sui